Sono stati intensificati, soprattutto lungo le principali direttrici del Verbano, i controlli stradali della polizia per garantire un ferragosto sicuro. Durante il fine settimana a Baveno e all'ingresso di Verbania, ai posti di controllo sono stati fermati 250 veicoli, identificate 500 persone ed elevate tre sanzioni amministrative per il possesso di stupefacenti. È accaduto a Verbania, dove una pattuglia... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.